Ciao a tutti, io sono Cristiano Racca, sono design engineer in Topics, Topics è un consorzio di una profil che si occupa sia di tecnologia che di progetti innovativi internet based e fortemente tecnologici. Qui all'evento Abito Fisto io ho parlato di dati e in particolare di big data. La visione di Topics sull'argomento big data è non tanto improntata a quello che è il termine, quindi la buzzword dietro questo tipo di dinamica, quanto soprattutto sulla tematica della formazione. Infatti dal 2012 ad oggi ci occupiamo di formare i cosiddetti data scientist, ossia persone altamente preparate all'utilizzo e alla gestione dei dati. Lo facciamo attraverso un corso che si chiama Big Dive, il corso è arrivato quest'anno alla sesta edizione, a partire da fa pochissimo, e all'interno del corso ci occupiamo di insegnare le tre componenti per noi chiave della tematica della gestione dei dati, quindi il coding, la data visualization e soprattutto la data science, intesa come machine learning e network science. Vi ringrazio per l'invito a questo evento e ci vediamo presto. Ciao! Grazie a tutti!